Allora, in tandem partiamo venerdì da Roma che sarà il 9 di luglio e arriveremo a Rimini il 12 di luglio che sarà il Kennedy la sera. Saremo 5 tandem con istruttori davanti e ragazzi con disabilità cognitive dietro che pedaleranno con noi e a cui gli faremo fare questa esperienza, penso, memorabile. Porteremo un pezzo di Romagna lungo tutto il tragitto che faremo, lungo le quattro regioni che attraverseremo. Questa gita, questo tour, visto che la fanno questi ragazzi, vogliamo dare un messaggio che possano farlo veramente tutti. Diciamo che le disabilità cognitive non sono un handicap, ma ci si può convivere benissimo assieme ed è una cosa che sia io che Matteo abbiamo scoperto, diciamo, recentemente da quando ci siamo avvicinati a questa associazione che da sempre aiuta questi ragazzi, diciamo, non come noi a fare sport, a fare movimento, a socializzare, a divertirsi, a vivere la vita. E ci siamo accorti in questi mesi che sono ragazzi veramente unici. Il circuito di Misano aprirà le porte a tutti coloro che hanno voglia di fare una pedalata in circuito con una bicicletta classica, con un tandem, con un reshow, con una bicicletta cargo e ci sarà, diciamo, questa sfida virtuale con questo giro di pista, con safety car, semaforo a dare il via e quindi sarà una cosa veramente racing, a due ruote, a pedali però. Pronti, siamo pronti, manca poco, anzi, non vediamo l'ora di partire. Assolutamente, oramai abbiamo fatto tutto e non vediamo l'ora di pedalare. Aspettiamo venerdì, con ansia.